Il settore delle sanificazioni è un far west, dove si verificano anche nelle marche speculazioni e truffe ai danni di cittadini e imprenditori. A denunciarlo è il CODA, consa che oggi ha presentato un esposto alle procure della Repubblica di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e Pesore Urbino. Come noto, le nuove disposizioni sulla fase 2 prevedono la sanificazione degli ambienti, una situazione che ha generato il caos in tutta Italia, con prezzi fogli richiesti a imprese, condomini e negozi. Le truffe sono passate da 1,50 euro al metro cubo, richiesti quindi nel periodo pre-covid, a 25 euro per la stessa metratura. L'obbligo di sanificazione, spiega il CODA, consa ha moltiplicato il numero di aziende che si sono improvvisate specializzate nel campo e che promuovono interventi senza alcuna autorizzazione. Vere e proprie truffe ad opera di chi sfrutta l'emergenza coronavirus. L'associazione che tutela utenti e consumatori ha chiesto di istituire una task force sul territorio regionale per contrastare manovre fraudolente da parte di imprese che commettono i reati di frodo in commercio, truffa aggravata e pratiche commerciali ingannevoli e scorrette. Per evitare situazioni come queste, il CODA consa invita le aziende marchigiane che operano nel settore a siglare convenzioni con l'associazione e garantire correttezza e prezzi calmerati, escludendo dal mercato gli operatori scorretti.